Ai microfoni di Nero Verde Channel con un ospite di assoluta eccezione, Dario Banfi, ex giocatore della Castellanzese, ma probabilmente sei ancora uno assolutamente di noi, Darione. Bentornati ai nostri microfoni. Grazie, buonasera a tutti. Sì, Darione, è un piacere rivederti, tra l'altro colgo l'occasione, festeggiamo insieme a uno dei protagonisti assoluti della promozione della passata stagione, se la Castellanzese in eccellenza è anche merito del suo supercapitano, leader in contrastato della difesa della Castellanzese. Adesso poi Tamai sarà geloso, ci starà seguendo in diretta, ma anche lui ha preso davvero in grandissimo prestigio e sta onorando assolutamente la fascia che tu gli hai tramandato, Darione. Ho fatto la fascia in buone mani. Assolutamente, su buone mani e su un buonissimo braccio. Festeggi con noi quelli che sono gli 11 anni di storia di Nero Verde Channel, quindi tu hai segnato una pagina importante della storia della Castellanzese e quindi ti chiedo quali sono le tue emozioni di tornare qui al Giovanni Provasi di Castellanza, dove tante e tante volte hai dato prova del tuo valore. Sì, diciamo che fisicamente sono qui ma col cuore lo sono sempre stato, nel senso che comunque seguo sempre le vicende della Castellanzese, sono contento di essere arrivato e di aver visto una vittoria oggi, quindi so che è molto importante. Niente, è sempre bello rientrare in questo stadio, ci si sente a casa, per me ormai è una seconda famiglia, quindi è un onore essere qua e sono contento per i ragazzi per la vittoria di oggi. Noi siamo contentissimi di averti rivisto, Dario, quindi da capitano a talismano, quindi eccezionale, lo facevi bene greggiamente il capitano, adesso hai portato benissimo alla squadra e ti chiedo, ti faccio fare un po' l'opinionista, come si chiede un po' agli ex leader della squadra, ti dico come hai visto la Castellanzese, che Castellanzese hai visto quest'oggi, oggi è andata bene la partita, l'hai giustamente sottolineato, come hai ritrovato i tuoi compagni? Ma, li ho visti bene, in realtà comunque la squadra l'ho vista molto compatta, le occasioni comunque sono state diciamo solo per la Castellanzese, non ho visto grossi pericoli, non hanno corso grossi pericoli e niente, poi l'importante era la vittoria, credo, in una partita come oggi, perché se non sbaglio non so bene la classifica, ma credo fosse uno scontro diretto per il momento e quindi era importante vincere, insomma. Vedo che la classifica è corta, quindi con un paio di vittorie sicuramente si può guardare la classifica da una prospettiva migliore, comunque li ho visti bene, insomma. Hanno applicato i tuoi ex compagni lo stile di Dario Banfi, concretezza, tanti risultati e tanto cuore. Darione, a nome di Nero Verde Channel, da tutta la famiglia Nero Verde, bentornato, è un piacere averti rivisto, torna presto a trovarci. Grazie mille. Grazie anche per me.